Ciao, sono Elena e quando sono seria mi occupo di traduzioni, dall'inglese e dal francese, di consulenza linguistica nelle aziende e di editing e revisione testi. Ti aiuto a ottimizzare il tuo inglese per il mondo del lavoro, per quello dei viaggi, per quello che serve a te. Tu chiedi, io mi adeguo. Qui trovi appunto spunti e consigli gratuiti per il tuo inglese sulla pronuncia, sulla grammatica, sui modi di dire o anche sul business English. Se vuoi approfondire la mia conoscenza puoi trovarmi qui. Ti auguro una buona permanenza. Sia!